Buonasera a tutti, è lunedì 10 giugno, sono le 22.34 e torniamo a parlare di analisi evoluta, su che cosa questa volta? Sul loro, perché? Perché mi avete chiesto in tanti questa analisi e quando sono andato a controllare che cosa stava succedendo effettivamente mi sono reso conto che non era così semplice fare una centratura corretta, perché? Perché se partivamo dall'inverso da qui avevamo un 8 barre più che cosa? Un 8 barre più 5 è un'interruzione devastante, quindi dato che di raccordi inversi a 5 giorni non ne possiamo mettere tra un settimanale e l'altro così a caso, perché i raccordi seguono delle regole precise che potete come di consueto andare a trovare sul sito www.analiseevoluta.com o .it richiedendoli direttamente cliccando su questo tasto, ecco che torniamo a parlare di che cosa è successo. Cosa è successo? Sono andato a controllare per bene il grafico a 45 minuti nella giornata del 29,5 quando abbiamo avuto questa candela rossa e se torniamo appunto sulla giornata del 29,5, eccolo qua, abbiamo un top, un massimo assoluto che non viene superato per oltre 48 barre. oltretutto viola lo swing per far partire un nuovo settimanale inverso, ben nascosto, è davvero estremamente ben nascosto quindi tra l'altro chiudiamo questa diatriba e che cosa succede? Vincola tutto il ciclo dopo essere partito rapidamente a rialzo nonostante la lateralità che poteva far pensare a tutt'altro e purtroppo fa questo movimento sinceramente devastante in concomitanza poi con una notizia arrivata dalla Cina. attenzione sul gruppo premium avevo detto guardate che qui, qua, manca un minimo inferiore ai 2334 dollari 80 perché avevamo fatto 2335 e 10 e avevo detto attenzione perché a me sembra strano ma noi dovremmo ritornare qui sotto prima di rimbalzare veramente e invece bel rimbalzo, ok, ma veramente bello che ha fatto pensare a una partenza di un secondo settimanale inverso da qui, non da qui quindi gran bella mistificazione di ciò che era poi quello che ci aspettava e crollo come d'attese, sì, è arrivato un po' tardi e dopo una bella finta bravissimi, sinceramente complimenti, veramente molto bravi, ok, questo è il grafico a candele da 45 minuti come sapete che viene utilizzato dall'analisi evoluta per vedere quale sarà appunto il movimento qui peraltro abbiamo avuto più di 44 barre, qui ne abbiamo avuto 42 fino a qua poi che cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto quante barre sotto un massimo? 4 e 4 mi puzza di raccordo, ok, e un raccordo però di 4 barre, che cosa mi dice? anzi, un raccordo di quante barre? Mi dice che qui possiamo avere un t-6 con 5 barre, ok? Per cui, attenzione ad andare long, per quale motivo? Per il fatto che se qui si è chiuso appunto a 42 barre su un massimo 44, qui è partita la leggenda, ok, la rimetterò la leggenda dei tempi dell'analisi evoluta se da qui è partito il secondo t-3 inverso, non da qui, se qui abbiamo avuto un raccordo tra un, aspetta però, tra un t-3 e un t-3, sì, un t-6, giusto? Ok, se abbiamo avuto un raccordo di grado t-6 inverso, metto più piccolo possibile perché sennò poi non ci sta tutto il resto qua, così lo leggete bene, mi rendo conto, partito da qua e ha fatto le sue barre, da qui ci può essere appunto una prosecuzione della discesa, giusto? Perché non possiamo aver avuto appunto un ciclo che abbia superato le 44 barre, e qui siamo a 47 sul top assoluto, e a meno che non ci sia a un certo punto una tendenza fortissima rialzista, in questo momento per ora proprio non la vedo, ok, qui abbiamo avuto una chiusura di inverso a 5 barre di un t-6 inverso tra un giornaliero e un altro giornaliero, brutta, orrenda, assolutamente orrenda, un po' come la partenza di un secondo settimanale inverso da qui, invece che da qui, da qui partenza veramente in sordina, su cui penso in pochi avrebbero scommesso, da qui partenza degna di questo nome, con persino conferma e con però un vincolo rialzo che non è arrivato, per cui complimenti davvero, avremmo dovuto intuire qui quando è mancato, abbiamo mancato appunto questo minimo che ne avremmo avuto poi un altro, ok? Adesso però abbiamo una nuova occasione per valutare se andare long o no, perché se andare long o no? Perché da qui è partito potenzialmente un nuovo mensile di inverso, che ha fatto un primo, un secondo settimanale di inverso e qui siamo al terzo settimanale di inverso, che potrebbe essere terzo più quarto, ok? Quindi non è blanda la spinta che abbiamo avuto a ribasso, e quanti giorni e per quanto tempo siamo rimasti sopra questo minimo? Per ora 32 barre, sappiamo che ce ne servono almeno 48, quindi se rimarremo fino a mezzogiorno di martedì, cioè di domani, sopra questo massimo, sopra questo minimo, voglio dire, questo minimo qua, rischiamo di vedere, iniziare che cosa? Un nuovo settimanale che, stante il death cross, non è che parta con i migliori auspici, ok? Per niente, e perché per niente ci sono migliori auspici? Adesso vi faccio vedere la parte più grave, ok? La parte più grave, su cui mi ha richiamato anche una persona nel gruppo premium, è questa. Qui, da questo massimo a questo massimo abbiamo 242 barre, giusto? Anzi, scusate. Da questo massimo a questo massimo abbiamo 269 barre, e voi mi direte, quindi? Sì. Un ciclo inverso, come vedete, parte da un massimo, va sul minimo e torna sul massimo. Da qui siamo partiti da un massimo, siamo andati a fare un minimo e qui abbiamo fatto il massimo. Quanto dura al massimo, scusate il gioco di parole, un annuale di inverso? Esatto, esattamente come la leggenda, 336 giorni, ma ne può durare anche solo 192. Questo massimo assoluto, fatto a 2454,2 dollari è superiore a quello fatto a 56. E qui che cosa abbiamo? Quindi con tutto un annuale inverso ribassista perché ci ha fatto salire come prezzi. L'inverso se dico ribassista significa che è salito, ha fatto salire i prezzi dell'oro. Significa che qui abbiamo la condizione necessaria e sufficiente in questo preciso istante, ok? Di che cosa? Della chiusura fino a un 1, 2, 3, 4 ciclo annuale di inverso. Iniziato da questo top qua, ok? Ed essendo arrivati a 4, preferisco segnalarlo qua, e noi abbiamo già anche la condizione più che sufficiente per chiudere tutto questo movimento qua, da qui a qui. Che cos'è questo movimento? Di inverso è un 4 anni, 1, 2, 3, 4 anno. Ve l'avevo già fatto vedere ma preferisco rifarvelo vedere a questo punto, ok? E stante il fatto che qui abbiamo avuto un raccordo ok? Che ci ha portato su un raccordo di grado settimanale, ho detto bene, ok? Un raccordo settimanale si posiziona tra un t più 3, cioè arriva dopo un t più 3 inverso, settimanale inverso, mettiamolo qua, 85, c'è sempre questo maledettissimo coso in più, ok? E ha detto ok, quindi se da qui parte un nuovo ciclo, si rivincolerà, ritorneremo al supremassimo, vi ricordate? Il raccordo ci dà tante informazioni che magari erano sfuggite a chi utilizzava la vecchia ciclica, solo che l'evoluta ricorda a tutti una cosa, che ormai i raccordi si posizionano tra un ciclo superiore di 3 gradi, quindi un raccordo di grado t settimanale, viene dopo un raccordo di grado t più 3 inverso, ma può non seguire un t più 3 inverso. E noi a questo punto dobbiamo vedere che cosa succede, perché la situazione si è fatta un attimo critica. Perché si è fatta critica? Sia per il fatto che abbiamo tutto per aver chiuso non soltanto un annuale di inverso, ma a questo punto persino un t più 7 inverso, cioè un quadriennale di inverso. Ma anche perché abbiamo perso la media mobile a 50 periodi, temporaneamente, siamo finiti dentro la cumo, e conoscete bene la regola, o riusciamo a iniziare a fare chiusure superiori, recuperiamo la media mobile, oppure rischiamo piano piano di finire qui sotto, e con questa parte finisco le cattive notizie, perché adesso invece dall'osservazione oggettiva del grafico, sempre grazie all'analisi evoluta, arriviamo alle notizie più interessanti. Qui abbiamo toccato un livello di supporto. Questo che cosa significa? Significa che dato che da questo minimo a questo minimo abbiamo fatto una gran bella chiusura, una condizione necessaria e sufficiente per chiudere un ciclo mensile, il primo mensile di questo trimestrale, da qui, se inizieremo ad avere un po' di spinta, e come detto, usciremo fuori dalla nuvoletta cumo, andremo a sbattere contro la media mobile e supereremo anche la media mobile, da qui potremo avere la partenza di un nuovo ciclo mensile. Abbiamo qualche indizio della cosa per adesso? Assolutamente no. Abbiamo soltanto che cosa? Abbiamo un settimanale lato indice che ha chiuso al massimo del tempo che poteva chiudere, abbiamo un possibile non soltanto terzo inverso ma anche bisettimanale inverso che si è preso tutto il vantaggio per partire, basta ancora una candela sotto questo massimo, abbiamo il nostro secondo ciclo settimanale di inverso e secondo bisettimanale, quindi tra l'altro in una giornata abbiamo 13 più 2 e quindi 13 più 2 fa 15, ok, quindi allarme fondamentale, eccolo qua, allora, qui mettiamo un allarme veramente fondamentale a 2285,20 dollari, sbagliato di un dollaro, mensile e trimestrale vincolati a ribasso? Brutta, eh? Parecchio brutta come cosa sarebbe. Se invece appunto riuscissimo a tornare su, teoricamente noi continuiamo ad avere come target questo se vogliono continuare il nostro trimestrale inverso. L'evoluta ci avvisa già però di quello di cui vi ho accennato prima, quindi bisogna stare estremamente attenti. Qui, ripeto, abbiamo una bella resistenza, un bel supporto volumetrico, questo ci può dare una possibilità di ritornare appunto verso l'alto, però deve tenere, i volumi devono continuare a essere lì, altrimenti diventa veramente un pastrocchio, ok? Per questo motivo vedremo da domani in avanti se hanno voglia di fare questo rimbalzo, se troveremo la forza di rompere prima la media mobile e poi anche qui il, scusate, la cumo e la media mobile e a quel punto, brutto però non mi piace perché c'è sempre sta roba che dà fastidio, ok? Faremo così, vediamo se ci sarà appunto il test con la media mobile e a quel punto andremo a capire se si vuole proseguire verso l'alto e poi tornare su questo massimo per vincolarsi e chiudere completamente ancora l'inverso perché tempo ce n'è per poterlo fare. Abbiamo tempo fino a 336 giorni, qui abbiamo un mensile fatto soltanto di 15 giorni su minimo 24, quindi abbiamo tutto il tempo del mondo. A quanto siamo arrivati qua? Allora, da 13 a 24, scusate, da 15 a 24 mancano 9 giorni per avere un T più 2 inverso completo, un mensile inverso completo, quindi sono 9 giorni, ok? Se aggiungo 9 giorni hai 284, rimango dentro il 336, vado a 293, ho ancora 43 giorni per poter continuare a salire, che non ho ovviamente lato inverso perché 15 meno 43 mi fa 28, quindi al massimo 28 giorni per provare a tornare verso i massimi assoluti. Per cui, riassumiamo tutta la situazione così almeno chiudiamo per bene il nostro video, video tra l'altro come vi dicevo, richiesto da parecchie persone e sì, anch'io avevo voglia proprio di andare a fare un recap dopo il movimento fatto che mi aspettavo da un certo punto, ma che non mi aspettavo con questa violenza, stante la partenza del secondo settimanale inverso, ok? Noi facciamo questa cosa, mettiamo un allarme qui sotto, sotto quello che è il minimo da cui può essere iniziato il nostro nuovo, può essere in partenza il nuovo settimanale per il tempo, per tutto quello che volete e magari qualche cosa di più. Quindi lo mettiamo sotto i 2304,2, se non violato inizia nuovo T e nuovo T più 2, ok? Così almeno abbiamo chiara la situazione. Vediamo se iniziamo ad avvicinarci alla media mobile, quindi mettiamo anche un bell'allarme qua, spinta rialzista, spinta rialzista per nuovo T e T più 2, ok? Ci teniamo per sicurezza questo allarme per il mensile che può vincolare se stesso e tutto il resto del movimento a ribasso e da ultimo controlliamo ancora il T più 5, il ciclo annuale. Il ciclo annuale può essersi chiuso qua a 148 barre ma neanche per ridere, ok? Con 148 barre arriviamo a un semestrale, quindi qui possibile chiusura di primo semestrale e da qui partenza di nuovo T più 4 semestrale, vediamo un attimo quante barre abbiamo, 25, 26, sì, un ciclo mensile lancia un grado, se anche solo lateral rialzista lancia un ciclo superiore di due gradi, quindi un semestrale, ok? Che dovremmo vedere che cosa vuole fare a questo punto, quanto spingere, perché qui siamo scesi sotto il 50% della salita, abbiamo avuto un ritracciamento di fibonacci pesante, ok? E da qui vogliamo vedere se partirà appunto il secondo mensile di questo trimestrale, semestrale, perché questo può essere già considerato anche un semestrale, non voglio sbilanciarmi, però swing e tutto il resto ci dicono che questo può essere il nuovo T più 4, ok? In realtà dovrei fare così, facciamolo perché è più corretto. In questo modo potete vedere che se togliete di mezzo le opinioni, se togliete di mezzo le pareri e tutto quello che vi viene in mente, ok? Sapete una cosa, anzi adesso vi racconto un'altra cosa ancora interessante. Se guardate il calendario economico, vi accoggerete che mercoledì 12 giugno, che cosa succederà? Ci sarà la decisione sui tassi di interesse della Fed, ok? Che è differente rispetto alla BCE, perché l'economia americana è molto differente rispetto all'europea. E che cosa ci sarà? Ci sarà una puntata di House of Trading sul canale di Benpe Paribas, eccolo qua, House of the Dragon, no, House of Trading, ok? Per cui si parlerà proprio di tassi, ma che bello, c'è anche già il mio webinar pronto alla partenza, ok? Fantastico. Si parlerà appunto di aspettative per quanto riguarda il discorso della Fed e farò il punto della situazione di nuovo ancora sugli indici americani, ma già adesso voi avete tutto relativamente all'oro. Voi sapete che in violazione di determinati livelli si forma un vincolo pesantissimo lato indice. Se invece avremo un rimbalzo, che può essere l'aspettativa più corretta, dovremmo vedere se riusciremo a superare prima questi livelli e poi, se dovessimo tornare qui sopra, potremmo vincolarci ancora di inverso per salire, se lo faremo in fretta. O comunque altro quarto t inverso. Gli allarmi sono tutti i piazzati, basta seguire semplicemente di t-3 inverso in t-3 inverso e di t-3 giornaliero per giornaliero, ok? Assolutamente semplice come cosa? Facciamo attenzione a questo discorso che iniziamo davvero a fare un buon rimbalzo volumetrico e ci vincoliamo, vincoliamo questo secondo t-3 inverso superando il massimo da cui è partito, sperando che ci diano una conferma che questo è effettivamente il massimo da cui è partito, ma per adesso abbiamo che cosa? Abbiamo almeno il tempo, non è che abbiamo tanto altro, abbiamo 6 barre sotto un massimo, se già si iniziasse a scendere fino a qui per fare una chiusura anche di t-3 di ciclo giornaliero, avremo altre informazioni perché a 23 a me non mi piace mai moltissimo come chiusura, quindi aspetto di vedere se vogliono ritornare su questi livelli prima di eventualmente vincolarsi e poi faremo tutti i conti pian piano sempre a partire appunto da quelle che sono le indicazioni che ci vengono date dal grafico giornaliero sui cicli principali, sulla possibilità di vedere che cosa è stato chiuso qua e poi ci sposteremo appunto sul particolare, queste sono le linee guida prima della decisione della Fed, ok? Spero di avervi dato tante informazioni in questo video, nel caso mettete un bel like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi ovviamente sia al canale di BNP Paribas per avere sempre tante informazioni sui mercati che ovviamente sul primo canale di analisi ciclica e analisi evoluta con oltre 16.600 iscritti e oltre 3.200 video in cui vi racconto in anticipo quali sono le aspettative su crypto, su indici, su commodity. Buona serata!